Case rurali per lo Stato e soprattutto per il fisco, ville di pregio con tanto di piscine e impianti sportivi, in realtà sono in tutto 165 gli immobili situati nei territori delle province di Bari e Bat che la Guardia di Finanza ha sequestrato nella maxi operazione che ha portato anche alla denuncia di 96 persone, i proprietari di queste strutture. Per molti di loro è stata rilevata la mancanza di ogni autorizzazione o titolo edificatorio. Non mancano strutture situate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Va da sé che gli immobili oggetto di attenzione e sequestro da parte delle fiamme gialle di Bari e Bat nell'ambito di un controllo economico effettuato in zone periferiche e di campagna delle due province siano sottoposti ad un regime di imposte diverso rispetto a quello che verrebbe applicato se fossero riconosciuti per quello che in realtà sono immobili di pregio, con piscine, strutture sportive, box, scuderie, anziché casi rurali, depositi e magazzini come risultavano. Sono dunque due le direzioni in cui si sono mossi i militari. La prima è penale e relativa all'abusivismo edilizio che ha portato alla denuncia di ben 96 persone e al sequestro di 165 immobili. L'altra è di natura amministrativa tributaria, tesa cioè al recupero di tributi evasi in materia di imposte su redditi, ICI, UIMU e Tarsu. Sotto quest'ultimo aspetto i numeri dell'operazione diventano ancora più rilevanti, con un totale di 2874 presunti evasori fiscali.